Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ricordiamo che fino alle 18 in direzione Bologna è chiuso il tratto tra la variante Rivalico e Aglio, uscita consigliata provenendo da Firenze e Badia sulla variante. In A12 code per lavori tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Colle Valdelsa Sud e Badesse in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Bis Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Madonnuccia Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. Chiusi gli svincoli di Madonnuccia e Pieve Santo Stefano Sud. Poverci Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!